Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Le provviste Colonnello, le provviste Colonnello, come ci disponiamo? Adesso Vediamo un attimo Di dividerci Chi sei tu? Tascanio Colonnello Capitano Cranio Capitano Cranio Devo provare il cucino Allora, dividiamoci il passaggio da 2 che copre il perimetro dell'uovo a intervalli ruotati sono il perimetro in 3 rimaniamo dentro io, War Daddy e Ascani rimaniamo dentro il perimetro è il punto intorno ma quindi posso mettere anche il perimetro? eccolo qua dai ragazzi dai allora qui c'ho un gancio che canale radio abbiamo? con la radio invitiamoci di squadre con le radio io sto dentro con il canale 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 allora stiamo con il colonnello noi senza radio lui è collegamento invece con la organizzazione quindi tu stai con me dentro il colonnello è lui il capo battuglia sono due e tre tre cammini ci sono Alberto Black io sono schermi ma Marco mi senti? un po' di più un po' di più un po' di più e poi come sono? eh ragazzi quale è davanti? Black ehi teniamo questo punto ok da qui arrivano insomma da qui si vuole da qui si vuole subito anche ogni due noi siamo beta Black ok io non vedo una sega ma molto bene non vedo una sega non vedo una sega ma abbiamo battuto gli acerbi non beta ma che è sto? dimmi che siamo Black beta luce verde arrivano questi arbusti non ci proteggano cazzo non andiamo oltre il capannone ho un visuale subregliasco chiedi al colonnello tra quanto è stimato l'arrivo del nemico no quello è frasco no quello è frasco il colonnello ha detto di non avanzare 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 dobbiamo fare una ronda il colonnello ha detto di non avanzare non avanzare non avanzare il colonnello ha detto il colonnello ha detto di non avanzare il colonnello ha detto di non avanzare il colonnello ha detto di non avanzare la il colonnello ha detto di non avanzare io sono un white e tu sei me vorrei incontrare un'altra squadra se può e tu sei me Grazie. 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 Ho visto qualcuno? Qui c'è? 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 Ok, pronto, vai andare, ti copro, vai, 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 copri le spalle, sono sicuri che sono nemici? Siete spattati le cose, eh? Mbbl c'è tenuto... Mbbl... Romartet s達zi Questa porta? Tu come sei messo lì? Io non ho visuale Dove? Black, com'è la situazione davanti? Quel bidone com'è? Sicuro? Blu Quindi sono due qui dietro? Black, com'è la stanza lì davanti? E le finestre? 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 Le Nature Le finestre? Le finestre? L'uffedo? E allora, lo ripieghiamo. Tiè, sei tu? Io non ho coperto una dietro, sei tu eh. Prendo. Blu. Sei? Si. Blu. S. Grazie. 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 Colonello! Copri questa porta. Molto! 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 Preso! Devo andare al parcheggio! Il parcheggio è un'altra! ... 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